Amici e amici del Corner Sandoriano, bentornati. Edizione straordinaria dedicata a questa coda di calcio a mercato un po' fuori stagione perché circa una settimana fa si chiudeva ufficialmente la finestra invernale di trasferimenti, ma come ben sapete ormai l'infortunio di Manolo Gabbiadini ha costretto la dirigenza blucerchiata a tornare sul mercato, in particolare ad aprire la pagina di Transfermarkt, mettere sul menu come filtri attaccanti senza contratto, tra i vari risultati che vengono, ho provato a farlo anch'io per curiosità, esce ancora il nome di Sebastian Jovinco, Diego Costa, Graziano Pelle, anche Carlo Steves, la dirigenza blucerchiata ha puntato sulla formica atomica che quindi torna in Italia, tempismo invidiabile e decisamente opportuno anche perché adesso credo, da quello che sento, che l'Atalanta sta facendo lo stesso perché l'infortunio di Duvan Zapata pare serio e quindi anche l'Atalanta sta provando a chiudere qualcosa tra gli svincolati, anche se probabilmente cerca altro tipo altro profilo rispetto a Jovinco, cerca una punta più fisica quindi forse Diego Costa, forse Pelle, ma insomma ci interessa relativamente. L'unica nota stonata del match contro il Sassuolo è stata appunto l'infortunio grave purtroppo occorso a Manolo Gabbiadini e quindi qua permettetemi di aprire un inciso perché è stata una nota molto molto negativa del pomeriggio di domenica scorsa, però è stata un'opportunità per se possibile compattare ancora una volta di più l'ambiente attorno a questa figura che secondo me a volte sottovalutiamo, quella di Manolo Gabbiadini come figura cardine della Sampdoria dell'ultima decade perché insomma lui ha vissuto due epoche, la prima dal 2013 fino all'inizio del 2015 e poi è tornato dopo le sue avventure al Napoli e in Premier League ed ha sempre dato ottime prestazioni, ottimi riscontri, ha dimostrato il famoso attaccamento alla maglia ed è stato bellissimo lo scambio reciproco tra lui, compagni e tifoseria per appunto provare a reagire e darsi reciprocamente conforto dopo questo infortunio che lo terrà fuori sicuramente fino alla fine della stagione in particolare permettetemi di sottolineare questo scambio tra lui e Quagliarella con il capitano che lo invita a tornare presto e Gabbiadini che risponde voglio giocare ancora con te insomma sono belle sensazioni che di questi tempi in questo calcio che spesso giustamente sottolineiamo come mercenario sono sensazioni che fa piacere che si vivano anche sotto la sponda blucerchiata della lanterna, diciamo così Allora, ma arriviamo a Sebastian Jovinco, penso che anche voi avrete fatto lo stesso nel momento in cui si è iniziato a parlare del possibile ritorno dell'ex attaccante di Juve e Parma in Italia abbiamo riaperto nella cartella, nell'archivio attaccanti italiani il file un po' dimenticato di Sebastian Jovinco e quindi ci siamo andati a vedere un po' di video su YouTube, io ne ho viste un po' e quindi ho ancora nelle orecchie le esultanze prima dei commentatori della MLS, della Major League Soccer che ne cantavano le gesta è stato totalmente dominante Jovinco con il Toronto FC, con la maglia della squadra canadese quindi ho sentito tutti questi stunning, amazing eccetera eccetera per commentare i suoi gol, le sue giocate pazzesche con i canadesi, ho sentito anche qualche Allah perché le ultime tre stagioni le ha giocate con la maglia di Riyad del Al-Hilal quindi nel campionato arabo, lì chiaramente ha veramente devastato, ha rotto questi, soprattutto la sua esperienza in MLS è stata clamorosa dal punto di vista numerica e dell'impatto anche mediatico, era veramente l'attrazione principale in MLS anche perché ci è arrivato con una scelta discussa a livello mediatico invece dalle nostre latitudini dato che era l'apice della sua carriera, della sua maturità fisica e calcistica è andato in MLS quando aveva 28 anni e c'è stato tre stagioni, ha collezionato 142 partite, 83 gol, 51 assist e proprio era l'idea che fosse la star di tutto il movimento poi dal 2018 fino all'estate 2021 l'esperienza in Arabia già numericamente meno esaltante 83 partite, 16 gol e 19 assist, quindi arriviamo al succo della questione cioè la domanda che ci stiamo ponendo è che impatto può avere la formica atomica all'interno della nuova Sampdoria di Giampaolo innanzitutto troverà un contesto differente perché se lì probabilmente giocava in squadre che erano organizzate per lui e su di lui ora dovrà entrare in un contesto che tecnicamente è buono, è fertile per le sue qualità ma troverà compagni chiaramente della stessa cifra tecnica e dello stesso profilo calcistico ho notato anche questa cosa in queste sue due ultime esperienze lui spesso quasi sempre giocava accanto a una punta di peso erano proprio coppie classiche forse di calcio di una volta l'attaccante alto e grosso contro quello piccolo e svelto in Canada il suo compagno era lo statunitense Altidor e invece nell'ultima esperienza in Arabia Bafet-Timbi-Gomi attaccante francese che forse ricorderete al Marsiglia questo non lo troverà nella Sampdoria di Giampaolo che effettivamente anche nelle sue esperienze nella sua esperienza nel triennio 2016-2019 se ci pensate a parte Duvan Zapata che comunque pur non essendosi peraltro espresso ai suoi massimi in blu cerchiato è sì un attaccante molto fisico ma non è la prima punta classica esclusivamente da gioco spalle alla porta poi per il resto prime punte vere la Sampdoria con Giampaolo raramente ne ha avute se pensiamo a Schick, se pensiamo a Muriel Quagliarella sostanzialmente faceva la prima punta perché sa lavorare spalle alla porta ma non ha il fisico classico da corazziere che prende le gomitate e passa tutta la partita spalle alla porta quindi potrebbe uscirne qualcosa di molto interessante a livello tecnico l'idea di pensare a Giovinco e Sensi che si associano per creare qualcosa alle spalle di Caputo è sicuramente stuzzicante rivedendo i video di Giovinco abbiamo visto come e mi sono ricordato una cosa che avevo dimenticato che calcia tranquillamente con entrambi i piedi ovviamente è letale sui calci di punizione e questo è ottimo nel sostituire Manolo Gabbiadini che aveva nella lunga gittata nei tiri da lontano una delle soluzioni che potevano aggiungere imprevedibilità all'offensiva Blu Cerchiata chiaramente nei video che vediamo che abbiamo visto nelle compilation che sono sempre abbastanza ingannevoli a qualunque livello di qualunque giocatore in America lo vedevamo proprio divertirsi ho visto tanti video di tunnel di numeri, di tricks, di sombreros ecco probabilmente ora non sarà questo il contesto o meglio questo non è il contesto per questo tipo di giocate detto che comunque il calcio di Giampaolo lascia creatività soprattutto nell'ultima parte di campo ai giocatori offensivi e di talento quindi il contesto ripeto è buono e si presta a buone speranze per l'attaccante tascabile piemontese penso che sia anche adattabile in due diversi ruoli nel senso che può fare la punta accanto a Caputo può fare il trequartista se dovesse mancare sensi punti interrogativi direi un paio ora lui è fermo da maggio si stava allenando da solo era tornato a Toronto ad allenarsi aggregato alla squadra dove giocava prima lui viveva a Toronto peraltro ancora dopo la fine della sua esperienza in Arabia l'ultimo gol ha segnato l'ultima partita ufficiale li ha giocati a fine maggio del 2021 quindi ci sarà da capire quanto tempo di quanto tempo avrà bisogno per rimettersi in carreggiata dal punto di vista fisico e atletico un altro punto di domanda che mi viene e qui torniamo al discorso che passa dall'essere la star la punta di Diorante forse addirittura la prima donna delle ultime squadre in cui ha giocato in Canada e in Arabia a un giocatore che invece deve inserirsi in un contesto di squadra collettivo offensivamente e anche difensivamente perché Gabbiadini ce lo ricordiamo per la sua vena realizzativa ultimamente molto molto sviluppata ma è anche un giocatore che tutti gli allenatori apprezzano e sfruttano utilizzano nella sua capacità di leggere il gioco in fase difensiva di applicarsi nella marcatura del regista avversario da Versa l'ha speso moltissimo in questo fondamentale e anche Gianpaolo anche mi ricordo Ranieri se ricordate l'ultima partita della Samp di Ranieri Samp Parma 3 a 0 del maggio scorso del maggio 2021 Gabbiadini che segnò in quella partita poi venne sostituito e Ranieri come saluto visto che era l'ultima sua partita l'ultima partita di Ranieri sulla panchina della Samp ringraziò Gabbiadini all'uscita dal campo gli disse Manolo perfetto come sempre e secondo me era una sottolineatura che riguardava soprattutto l'applicazione le letture tattiche senza palla rispetto a quelle di quando Gabbiadini il pallone ce l'ha tra i piedi e quelle sono sotto gli occhi di tutti non serve neanche rimarcarle quindi dovremo capire in che modo Sebastian Giovinco riuscirà anche a entrare nel collettivo blucerchiato di Gianpaolo sotto questo punto di vista anche perché ad esempio insomma arriva tra poco una partita in cui di fase difensiva fatalmente bisognerà farne molta e insomma sappiamo quanto Gianpaolo ci tenga ma qualunque allenatore abbiamo visto anche come sia necessario un minimo di conoscenza su Priaga è durato mezz'ora prima di essere sostituito dopo essere subentrato quindi vedremo come inciderà la formica atomica Sebastian Giovinco in questi sei mesi di contratto che ha firmato fino a giugno quindi anche meno 5-4 con la Sampdoria aspetto le vostre reazioni i vostri commenti qui sotto detto che è un'operazione che visto il tempo a disposizione il materiale che offriva il mercato secondo me è stata un'operazione perfetta e condotta in modo impeccabile dalla nuova dirigenza più cerchiata grazie aspetto i vostri commenti grazie a tutti